5, 4, 3, 2, 1, vai! Sinistra 4, sale, 50, sinistra piena, 60, all'albero, destra 4, per sinistra 4, per attenzione in ritarda, tornate destro, 50, taglia, tornate sinistro, va, 60, taglia, destra 3, più vai 40, attenzione, destra 3, rosso diventa 2 che gira, per sinistra 3, in sinistra 2 diventa 4, per destra 4 diventa 3 meno lunga, 3 meno lunga diventa, per sinistra 3, 40, alla pettuccia destra 5, 50, sinistra piena, 20, destra 4 meno, 30, sinistra 4 diventa 3 a 9, per sinistra 3, 20, a rail destra 3 lunga diventa 4, apre 90, destra e taglia, al verde, sinistra 4, per sinistra 4, per sinistra 5 vai 80, taglia, in fondo attenzione al vuoto, destra 2, questa è una 2, in sinistra 2, in destra 4, per al muro, per al muro, destra 3 più a 300, taglia, e attenzione alla pettuccia in fondo, destra 2 più, 2 più, 20, a rail occhio, destra 3 meno, 20, e dal rail destra 2, subito sinistra 3 meno, per al muro sinistra 3 lunga, più morbido, per al rosso ritarda destra 2, diventa 4, e alla cassa destra 3, in sinistra 2 occhio, 40, destra 4, 50, al muro sinistra 4 meno, in destra 4, 50, a cartello sinistra 2 più, 40, destra 2 lunga, a casa, in sinistra 3 più, diventa 2 al muro, per attenzione destra 2, per sinistra 3 lunga lunga, finisci, fidati, finisci al palo, al bus sinistra 3, per alla casa destra 3, e sinistra 3 due volte, 40, al muro destra 2, 20, destra 4, attenzione, tieni sinistra 3, dopo diventa tornante destro, 20, al palo, destra 3 per tornante sinistro, e poi 30 taglia, al bar tornante sinistro, al bar tornante sinistro, in, destra 3, 20, al muro, destra 3, vai 20, taglia, 20 taglia, destra 3 più diventa 4, allo specchio, sinistra 3, tieni, per destra 3, per attenzione sinistra diventa 2 albini, in destra 3 due volte, in sinistra 3 lunga lunga, tieni giù e fidati, ai mattoni rossi, ai mattoni rossi, diventa sinistra 3, vai 40 taglia, ritardo a destra 3, meno subito, attenzione sinistra 2 che gira, per al muretto destra 3, diventa 4, in sinistra 4, al muretto destra 2, 40 taglia, a fine muretto destra 3, in sinistra 4, al rail diventa 2 lunga, per al muretto, destra 2 lunga, in sinistra 3 più, per sinistra 3 più 20, destra 4, ritarda, tornate destro, per sinistra 3, per sinistra 3, occhio, ritarda, destra 2, tieni, subito tornate sinistro, poi tieni, subito tornate sinistro, occhio, sinistra 4, agli olivi diventa 2, subito, tieni, tornate destro, 40 destri, destra 2, tieni, per al muretto, sinistra 3 meno, occhio, al rosso diventa 2, per destra 3 meno, in sinistra 2, in destra 4, 50, sinistra 5 diventa 3, al muretto, 40, al 53 destra 4, in sinistra 4, per destra 5, per attenzione destra 3, tieni, subito attenzione sinistra 2, 30, tornate sinistro, scivolo, occhio, per molta attenzione, tornante destro, muretto interno, 40, agli alberi, destra 4 meno sporca, 40, alla fettuccia, destra 3 meno lunga, in sinistra 4, per destra 3, attenzione al rosso diventa 2, che gira, per tornante sinistro, occhio, 20, arrende a destra 2, vai 60 destri, e dalla fettuccia, destra 2, subito tornante sinistro, destra 2, subito tornante sinistro, vai 60 destri, vai, vai, giù, 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 tutto, eh, ai virus, la 5 va 100 taglia, giù, 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 vai, 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 ok ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.